E questa zia, che era simpaticissima, fra l'altro bellissima, io dico che assomiglia a Ingrid Bergman, giovane, ma veramente, con un carattere molto particolare, mi faceva ogni tanto, accennava questa figura paterna, sempre con lo stesso tipo di affettuosità che aveva l'altra zia nei confronti di Zacconi, che anche lì io dicevo, sì, buono, tenero, però ha fatto delle cose anche terribili. Perché, per esempio, non ho finito di dire nell'episodio di Zacconi, a un certo punto questa mia zia si era innamorata di un attore molto più grande di lei e lui è andato da Mussolini e l'ha fatto mandare al confino. Ecco, era un gesto sicuramente affettuoso nei confronti della figlia, ma non tanto, giusto o eticamente, ecco. Lo stesso avveniva dall'altra parte, questa mia zia mi parlava di questo suo padre in termini entusiastici, dolcissimo, meraviglioso e poi però raccontava degli episodi pazzeschi, tipo, ah io volevo ballare, allora mio padre diceva, tu sei una ballerina nata, facevamo delle gite, andavamo a piedi in cima alle montagne e poi una volta arrivata in cima mio padre mi diceva, ti vorrei vedere ballare e io dicevo, ma non ho le scarpe con le punte, non importa, vai giù e le prendi. E lei andava giù e le andava a prendi. Io rimanevo un po' spaventata da questi racconti, in più mia madre che era molto ironica, molto simpatica, a sua volta mi raccontava di episodi che aveva saputo e che lei insomma vedeva un po' come delle cose pazzesche. Allora ho ricostruito un po' mentalmente questo racconto e nasce tutto appunto da questo nonno Heinrich Gassmann il quale a un certo punto della sua vita dopo essersi laureato in ingegneria prende un suo amico carissimo di origine svizzera tedesca e decidono di venire a piedi in Italia perché si devono sposare e le donne italiane sono belle. Già questo fa paura perché uno dice perché a piedi, perché è più bello e se... Allora io immagino un po' questo viaggio terribile in cui le vesciche, non lo so io, delle cose terribili eccetera e arrivano a Genova e lì si fermano perché non ce la fanno più proprio, non possono... E in realtà incontrano due sorelle, le sorelle Ambron, mia nonna e mia zia. Ecco, il fatto che da questa unione, perché poi questa unione sarà molto bella, purtroppo breve perché mio nonno morirà molto giovane ma sempre il racconto di mio padre era, perché si ricordava, è morto credo che lui aveva 16 anni e si ricordava anche lui queste gite in campagna dove c'erano temporali e loro si rifugiavano in piccoli luoghi così e lui col suo, perché era enorme, altissimo, lo proteggeva e infatti ha scritto anche una bellissima poesia in cui ha questi ricordi ma sempre di un personaggio un po' mitico, un po' non un signore tranquillo e sereno il quale addirittura fa una morte poi pazzesca perché si cura lui di un, probabilmente perché non era nemmeno accertato, un tumore di un tumore sedendosi su un bracere, su un trono con sotto un bracere cioè una roba che uno dice ma la neuro non l'hanno chiamata. Allora, siccome io mi dico dei geni sono sicuramente arrivano fino a me e poi arrivano ai miei figli mi sono un po' domandata certe cose, ecco perché ho fatto iniziare questa serie, in più da questa unione nasce un ragazzo che poi diventa Vittorio Gassman quindi ecco tante cose di lui abbastanza difficili perché è stato un uomo così particolare, così come lo è stato nella carriera, lo è stato nella vita con degli aspetti così insoliti, con un carattere così difficile che passava da una simpatia incredibile a una chiusura, una morbosità ecco tutte queste cose io sono convinta che poi certi geni te li porti dietro, certe situazioni e quindi mi affascinava questo ripercorrere se non altro, per saperlo poi diventeremo tutti matti, non è che li puoi prevenire molto le cose però credo che scrivere serva anche a riconquistare un po' quello che sei tu, quello che potrebbe essere nei tuoi figli, nei tuoi nipoti quello che vedi, che intravedi. Io intravedo molto di lui e di mia madre e quindi attraverso di loro ho cercato di fare questo percorso per capirmi meglio, per appropriarmi meglio anche di quello che io definisco alla fine nelle ultime righe è un privilegio di aver avuto una famiglia con dei personaggi così precisi e con degli altri personaggi e mi premeva descrivere anche quelli che hanno fatto sì che questi personaggi diventassero poi perché ci sono quelli che non sono diventati famosi ma che hanno di molto aiutato la situazione per far sì che lo diventasse infatti io credo che questo libro sia molte cose, come dicevo oltre a un tributo proprio a un pezzo di storia del teatro che generosamente porto ai lettori perché erano cose che io non sapevo e che penso molte persone non sanno però è anche un'occasione, è terapeutico intanto, è anche un'occasione per precisare dire i rapporti col padre, la madre e anche dire delle cose che non si sono osate dire in vita infatti ho notato che mentre i racconti così della storia del teatro, diciamo di questa famiglia geniale e stravagante sono in terza persona, cioè c'è un narratore impersonale invece quando si parla al padre e alla madre si dà del tu quindi c'è qualche cosa così che preme di più caldo e c'è anche un rapporto lacerante da una parte col padre soprattutto nei primi tempi e poi viene recuperato alla fine ma come dicevo prima mi stupisce anche perché con una famiglia simile, separazioni, famiglia allargata ci sarebbe materiale, ci sarebbe stato materiale per dar da guadagnare a molti psicanalisti in realtà invece quello che il libro trasmette apporta una grande umanità poi anche un grande calore e un ottimismo direi tutto alla fine viene risolto e anche questi rapporti così strampalati alla fine non le dono più che tanto la personalità e quindi chiedevo, è un suo carattere ottimista così che tende a risolvere i conflitti sono stati bravi questi genitori a dare una solidità nonostante questa vita di genio e srogolatezza? Che cos'è stato? Ma è stato un po' l'uno e un po' l'altro sì sicuramente e nel libro lo dico a un certo punto mi sono presa finalmente il coraggio di ammettere che una buona parte l'ho avuta anch'io nel senso che la natura mi ha dotata probabilmente di un buon carattere infatti la descrizione della mia nascita già lo fa presupporre perché insomma anche i primi mesi di vita che ho dovuto superare avendo due genitori bambini perché mia madre aveva 20 anni e mio padre 23 facevano gli attori ma ancora non erano famosi quindi erano in pieno subbuglio c'era la guerra e insomma c'erano delle situazioni molto precarie e molto difficili Io vorrei farmi anche raccontare l'episodio dell'anangrafe perché questo è... Sì, lo testimonia in peccati veniali e poi in peccati forse anche un pochino più importanti fra cui io immagino dopo che mia madre aveva scambiato la mia nascita per una indigestione di ciliegie e non voleva assolutamente ammettere che io sarei nata un mese prima del dovuto tant'è vero che mi sono chiamata Paola perché sono nata il giorno di San Pietro e Paolo ma dopo questo mio padre naturalmente sarà andato all'anagrafe a fare il suo dovere di padre e immediatamente ha commesso due errori che mi sono portata dietro per tutta la vita il primo è stato quello di privarmi di una n finale che insomma non mi ha creato grossi problemi io l'ho scoperto un po' più tardi perché io continuavo perché lui poi è andato in America e si firmava anche lui con una n ed è diventato con una n il suo cognome d'arte diciamo però non Enrico che l'abbiamo visto così perentorio avrebbe preteso le due n perché noi veniamo da Karlsruhe questo cognome è nato a Karlsruhe vicino a Friburgo nella foresta nera e quindi si scrive con due s e due n finali grazie a tutti grazie a tutti